Caltanissetta N, Messina e Catania e Trapani sono tra le città italiane che hanno raggiunto il picco della quarta ondata di Covid-19, questo quando riscontrato dall'Istituto per l'Applicazione del Calcolo Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E dunque a Caltanissetta ha raggiunto il picco massimo, si attende il plateau. Intanto i numeri rispetto al report inviato ieri dal ASP di Caltanissetta sono dei numeri assolutamente più bassi rispetto alle giornate precedenti, 497 i pazienti positivi, dei quali 202 a Gela e 80 riscontrati a Caltanissetta. Nel complesso dei numeri quasi a quota 10.000 i positivi in tutta la provincia, infatti sono 9.903 in quarantena domiciliare, 65 ricoverati in malattie infettive, 7 ricoverati in terapia intensiva, c'è un ribasso dei ricoveri nelle ultime 24 ore da 68 a 65. E intanto i numeri delle città con un maggior numero di positivi, Caltanissetta. 1.674 in quarantena domiciliare e 19 ricoverati in malattie infettive, mentre su Gela siamo a 4.539 ricoverati in quarantena domiciliare e 27 in malattie infettive. Sono 9 i pazienti ricoverati in altri presidi.